San Tetani, Severi e Cesalpino. In queste tre palestre di altrettante scuole a retine i ragazzi potranno fare sport in maniera più sicura perché da oggi sono dotate di defibrillatori. Le strutture aperte non solo agli studenti ma anche alle associazioni sportive del territorio necessitavano di questa dotazione arrivata grazie all'azione congiunta di Comune di Arezzo, Fondazione Cesalpino e Destra. Un grazie particolare a Destra perché dimostra di essere quell'azienda dal cuore umano che ci piace essere, cioè un'azienda che dà una mano forte all'amministrazione laddove si tratta di fare un servizio alla comunità. Quindi il concetto della sicurezza che è un po' uno dei punti fermi della giunta Ghinelli ritorna qui con grande attenzione, cioè quello di mappare il territorio e di predisporre in ogni punto strategico e le scuole sono per eccellenza il punto strategico affinché possa essere presente qualora ci dovesse essere la necessità. Quindi sicurezza come parola chiave che si declina in tanti modi. Stamani mattina qui alla Cesalpino si declina con defibrillatori. Non sono qui ma anche in altri istituti. È come dire un punto forte per permettere ai ragazzi, ai docenti, alle famiglie, ai cittadini di Arezzo di essere sicuri. Sono ormai 20.000 i cittadini aretini che hanno seguito il corso di formazione per l'utilizzo del defibrillatore e così Arezzo diventa una delle città italiane maggiormente cardioprotette. ESTA si è messa a disposizione di un comune che è sensibile su questo argomento. Oggi inauguriamo anche questo punto alla Cesalpino e siamo felici di sostenere questo progetto del comune, delle società sportive, delle scuole al servizio della vita. In questo senso ESTA continua a rappresentarsi come una società del territorio legata alle esigenze sociali e sportive del nostro comune.